Sono andato in palestra stamattina, che non so mai se sia una buona idea partire lunedì mattina con i pesi, poi non sto più in piedi tutta la settimana, ma a parte questo dettaglio così pratico, ero di fianco a un bodybuilder che c'aveva dei pesoni grandi così, che, cioè, sembrava presti, ok? Era un bodybuilder professionistico, e poi c'ero di fianco io, con i miei due pesettini, facciamo lo stesso esercizio. La cosa che mi ha colpito è che io urlavo più di lui. Ho capito? Cioè, questo mi ha fatto riflettere, però voglio mettermi in forma, voglio mettermi in forma perché ho un mese prima che inizi luglio, dove allora si comincia ad andare in spiaggia, devi avere la prova a costume che funzioni, queste cagate qua, no, a parte gli scherzi, voglio neanche mettermi in forma, perché mettermi in forma è una frase da giovane. Quando invece fai 50 anni, che a luglio faccio 50 anni, tua aspirazione è non decadere totalmente, questo già sarebbe molto, perché ho fatto già un infortunio stamattina, semplicemente stringendo un peso, il polso mi ha ceduto. E allora cercavo una modalità per riuscire a tenere continuativamente un buon livello, di forma anti-decadente, mettiamola così. E cerca, 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 leggo tutte le possibili riviste scientifiche, gli studi pazzeschi più incredibili, alla fine ho trovato la fonte migliore, totale, Twitter. Dirla qualunque ha scritto, 30 minuti al giorno per 30 giorni. Da sette. Formula magica, mi è piaciuto tantissimo. Allora voglio introdurla nella mia routine per questo mese, 30 minuti al giorno di attività fisica, almeno 30 minuti al giorno, perché poi se vado a giocare a tennis, magari gioco due orette, però 30 minuti al giorno per 30 giorni. Mi piace perché funziona su due leve importanti psicologiche. La prima leva è quella della riduzione. Se io devo mettermi lì a leggere un libro intero, perché 30 minuti al giorno per 30 giorni ti funziona per studiare, per attività fisica, per qualunque tipo di attività tu voglia fare, o di abitudine uno voglia prendere. Se devo leggere un libro di 300 pagine, se dico leggo 10 pagine al giorno, si capisce, non ci vuole Einstein, che è un'attività molto più raggiungibile. Qua è la stessa cosa. 30 minuti al giorno non è un minuto, come avevo fatto un video un po' di tempo fa, che è l'estremo, e non è due ore al giorno, metti lì e pompi. No, è un'attività più gestibile. 30 minuti li trovi. Se non c'hai 30 minuti al giorno, non c'hai una vita, come dice il saggio. La seconda cosa carina di queste formulette da bacio perugina è che si basano non sulla motivazione, ma sulle procedure. Che è un'altra logica importante che in genere bisognerebbe applicare anche al lavoro. Se io mi devo basare sulla mia motivazione, per quando mi reputi una persona determinata, cioè se decido di fare una cosa, la faccio ugualmente. Sai, un po', non c'hai voglia, c'hai il contrattempo, ma oggi aspetta che, è facile perdersi via. Se tu invece hai delle procedure in atto, come la procedura di lavarti i denti, tu ti lavi i denti, non è che ogni volta ti devi motivare, come con i bambini, lavati i denti, ma ti sei lavato i denti, è lì, il lavoro di motivazione è un disastro. Quando c'è l'abitudine invece che è innescata, tu ti alzi, ti lavi i denti, quando tu ti lavi i denti, insomma ti lavi i denti, prima o poi te li laverai, questi cazzo di denti. Ecco qua la stessa cosa. Se riesci a creare una procedura che per 30 minuti al giorno fai un'attività, scegli tu quale vuoi fare, io proverò a fare un'attività fisica, a quel punto diventa più facile. Riduzione, al posto di avere il totale, e poi questa parte di procedure versus motivazione. 30 minuti al giorno per 30 giorni. Sei con me? Se ti è piaciuto questo video e vuoi entrare più in contatto, entra nella mia community Crazy Fury. Crazy Fury. Ci ritroviamo ogni giorno, abbiamo un evento annuale, abbiamo una call su Zoom dove io rispondo a tutte le domande, ci sono anche le altre persone, abbiamo sconti, collaborazioni, è il posto giusto per entrare più in diretto contatto se ti interessa. Crazy Fury.